In una notte di luna crescente, che tingeva d'argento ogni fessura oscura, un viaggiatore di nome Edgar errava su una collina isolata. Il vento si bilava attraverso i rami degli alberi circostanti, parlando una lingua che solo la terra conosceva. Ma nel mezzo della collina sorgeva un albero diverso, un albero che Edgar percepiva come una perversione della natura stessa. La sua corteccia era un caleidoscopio di inquietudine, grigi, marroni e un nero così profondo da sembrare quasi un abisso liquido. I suoi rami si torcevano in contorsioni grottesche, formando ciò che potevano solo essere interpretati come volti sofferenti e disperati. Edgar sentì un'attrazione spaventosa verso quell'entità vegetale. La mattina seguente cercò il più anziano tra i residenti del villaggio vicino, un uomo con occhi vitrei e una pelle increspata dal tempo. L'albero della morte, mormorò l'uomo, il cui respiro sembrava aggravato dalla semplice menzione del nome. Ogni volto è un'anima imprigionata, costretta a rivivere una tormentata esistenza. Stai alla larga o diventerai uno di loro. Eppure, quella stessa notte, Edgar fu irresistibilmente trascinato di nuovo all'albero. S'assise ai piedi del suo tronco massiccio e iniziò a sentire sussurri d'agonia che risuonavano nelle sue tempie, come un coro maledetto. Stava per soccombere al richiamo del sonno quando una folata d'aria gelida lo risvegliò. I volti nei rami sembravano ghignare in quel momento, come custodi di un orribile segreto. Tremante, Edgar scese dalla collina, persuaso di aver sfuggito al fato funesto. Ma la mattina seguente, nel villaggio, Edgar sentì i cittadini parlare di lui come se fosse scomparso. Sconcertato, tornò all'albero e trovò il suo stesso volto scolpito nelle radici. Corse, cercando il vecchio che lo aveva avvisato, ma ogni passo divenne sempre più pesante. I suoi movimenti si rallentarono finché, in un terrore inenarrabile, si ritrovò immobile, le sue stesse gambe divenute radici che si ancoravano al suolo. Molti anni dopo, la forma arborea che Edgar aveva assunto era ormai un tronco secco e contordo. Sentì il fremito d'una scure che lo tagliava e il suo ultimo ricordo fu il crepitio delle fiamme in un camino. I raggi lunari illuminavano il soggiorno del vecchio che lo aveva avvertito tanti anni prima. Gli occhi vitrei del vecchio si fissarono su di lui e in quell'ultimo, terribile istante, Edgar vide un sorriso malevolo deformare il volto dell'anziano. Era come se l'albero della morte avesse trovato un nuovo modo di perpetuare la sua atroce leggenda. Grazie.